Alba Parietti qualche mese fa ha condiviso su Instagram un post con un messaggio a dir poco toccante, rivelando che il suo amato Venni, doveva affrontare un momento difficile a causa di vari problemi di salute che richiedevano un complesso intervento chirurgico Questo amico a quattro zampe è con lei da ben 15 anni, accompagnandola e sostenendola nei momenti più duri, come la perdita della madre Le sue parole furono, per me è un bambino, un figlio che ho accolto in casa quasi 15 anni fa, esprimendo tutta la sua preoccupazione e l'amore incondizionato che sente per lui Questo legame profondo tra la sugar le venghi riflette un sentimento sempre più diffuso, in un tempo in cui molte persone decidono di avere meno figli, gli animali domestici assumono un ruolo centrale nella vita familiare Gli animali, e in particolare i cani, diventano compagni di vita insostituibili, capaci di donare affetto incondizionato e conforto, una compagnia che va oltre la semplice relazione animale-umano La relazione tra umani e animali oggi.Alba Parietti non è la sola a considerare il proprio cane come un membro della famiglia Sempre più persone vedono negli animali domestici un rifugio di affetto e lealtà, qualcosa che colma spesso il vuoto lasciato da relazioni umane o dalle difficoltà di avere figli in un mondo complesso e impegnativo Tuttavia, è importante riconoscere che, sebbene il legame affettivo sia forte, gli animali rimangono esseri con bisogni e comportamenti propri e non devono essere umanizzati eccessivamente La responsabilità di avere un cane, salute e premura.Prendersi cura di un cane significa garantire che abbia una vita sana e appagante, e ciò include controlli veterinari regolari, cibo adeguato e attenzione alle necessità specifiche della sua età e della sua razza La decisione di Alba di sottoporre Venghi all'intervento dimostra quanto sia importante per lei assicurargli una buona qualità di vita Tuttavia, è importante ricordare che la salute degli animali domestici dipende anche dall'attenzione alle cure preventive, poiché malattie e incidenti possono compromettere la loro salute e serenità Sebbene oggi molti considerino i loro animali domestici come figli, è importante ricordare che, pur donandoci affetto e complicità, gli animali restano creature con bisogni specifici e limitazioni La loro dolcezza e la loro fedeltà sono caratteristiche intrinseche, ma il loro posto rimane quello di un amico affidato e non di un sostituto di relazioni umane La delicatezza di Alba è l'importanza del rispetto per gli animali Alba Parietti ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha mostrato comprensione e affetto per il suo cane, ricordando che ogni animale, pur con il suo carattere e le sue paure, è degno di rispetto e amore Questa sua premura è un esempio di quanto sia importante per noi trattare i nostri animali con attenzione e rispetto, riconoscendo il loro valore nella nostra vita senza trasformarli in sostituti di legami umani Oggi, i cani e gli altri animali domestici svolgono un ruolo fondamentale nel benessere psicologico e sociale di molte persone Tuttavia, come ci ricorda Alba, questo legame profondo richiede cura e responsabilità, riconoscendo la natura degli animali e rispettandoli per ciò che sono Alba, questo legame profondo è un'esercizio di legami e rispettando la natura degli animali e rispettando la natura degli animali